Una domanda gliela faccio anche sui rapporti istituzionali, ma lei riesce ad avere incontri con il commissario prefettizio? Lei ha visto quello che sta succedendo per il mondo dello sport, è tutto bloccato e questo sta creando veramente tanti disagi ai cittadini, alle famiglie che nel tempo hanno avuto l'opportunità attraverso le strutture pubbliche di poter dare ai propri figli questa formazione sportiva. Noi da tempo stiamo seguendo e con attenzione tutto quello che si sta muovendo su questo tema. Prima dell'emergenza Covid noi abbiamo creato un tavolo istituzionale per mettere le piscine di proprietà della provincia di Crotone a disposizione della collettività dopo quello che è successo. C'è un bando che è in via di pubblicazione, stiamo facendo la nostra parte. E' ovvio che è la situazione che si è venuta a creare in tutti noi una riflessione e quindi sarà nostra premura chiamare nei prossimi giorni il commissario prefettizio per capire come intende andare avanti, come intende procedere soprattutto per mettere un po' d'ordine che io credo sia necessario. Anche per il Palamilone? Assolutamente sì. Io penso che tecnicismi burocratici non possono mettere in ginocchio un settore. Io credo che la politica, le amministrazioni, cioè chi amministra deve mettere nelle condizioni lo svolgimento naturale di ogni attività che sia sportiva o di altro, nel rispetto della legge, nel rispetto dei regolamenti, ma impegnandosi per trovare una soluzione. Un continuo rimando oppure di farsi ogni volta a organi giudiziari io non credo che sia la soluzione migliore.